Atleti è competito in platform, platform 1 Ciaciucca e Isola, platform 2 Ambrosi e Gabor, platform 3 Reali e Jacopo e platform 4 Lavia e Emanuele. Ok, atleti sono pronti, giudici sono pronti, 3, 2, 1, inizio! Grazie a tutti! 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 Man Elite, tutti gli atleti stanno competendo con i Reds, con 32 kg. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!